Amore Amici torna Wenderen anche oggi ma torna per la prima volta quindi cosa devo dire torna non devo dire torna dico arriva finalmente nello zoo di 105 padre Spiretti sì ho preso queste voci da un film di Claudio Verdone fantastico da lui Falprete e le utilizzerò oggi per chiamare la gente a casa e fare gli scherzi telefonici ma ricordate che una volta che noi facciamo gli scherzi telefonici qualsiasi dopo richiamiamo la vittima e gli diciamo che abbiamo fatto uno scherzo non è vero noi siamo gente onesta non è vero no non è vero non chiamiamo nessuno siamo pronti andiamo l'Accademia Dante Ligieri pronto? sì? sì buongiorno come va? come va carissimo? pronto? 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 sono padre Spinetti sono? come va? questa è l'Accademia Dante Ligieri? sì sì mi dica per l'appuntamento allora quale appuntamento? domani? no va bene ha un appuntamento domani? sì 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 a che ora? allora scriva 28 13 56 sì? senta però cerchi di chiamare tra le 8 e le 8 e un quarto perché si attacca poi a parlare quello del duplex ci posta una vita ha capito? sì ma noi siamo una scuola di recupero anni lei lo sa? sì sì di Milano sì 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 perfetto lei ha un appuntamento domani qui in Accademia? sì va bene a che ora? no me lo deve dire lei ma no una domanda domani domani ha un appuntamento lei? senz'altro grazie infinite prego mi saluta la signora allora e anche la bambina quale signora? prego si figuri a lei chi è? sono padre Spinetti e una registrazione ma va ci tenesi conto? quando gli chiedi chi è? dice sono padre Spinetti sì 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 pronto? pronto? sì buongiorno come va? aia no 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 pronto? pronto? pronto chi parla? sì buongiorno come va? come va carissimo? no va un gran cazzo bene sono padre Spinetti e a me non me ne frega un gran cazzo gli dici sì 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 come va? un gran cazzo bene pezzo di merda mi dica eh mi dica ti metti mi dica mi dica per l'appuntamento allora? eh l'appuntamento con sto cazzo altro altro dirmi sì va bene anche ora? va bene anche ora? anche un cazzo che devo il tipo di me perfetto eh mi saluta la signora allora? e anche la signora? mi dici va bene va bene allora scriva scrivomi dimmi quando è che ti vuol 13 56 eh senta però che cosa è questa roba qua? i cazzi che tomare la ciappa a che ora? eh a che ora? ma è che ti vuol dirmi dopo il tramonto sono sempre disponibile ma cosa vuole? verso mezzanotte? mezzanotte e mezza? cane? no come è un porco? senz'altro allora quando vuoi cane? quando vuoi morire? porco dimmi quando è che ti vuoi morire cane? domani domani? che devo farmi vedere un attimo do l'agenda allora scriva domani a che ora? allora domani sera devo andare a scuotere cosa? campo è un po' fatica però ho due impegni prima della mezzanotte eh finché Dio ci dà salute finché Dio ci dà la grazia e Dio e Dio te dà la grazia Dio te dà la grazia porco Dio te dà la grazia mi te dà la grazia bloccatelo tifoso voglio senz'altro adosapiti tifoso porco grazie 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 al cazzo di soliposo cancro stramaledetto coglia merda prego si figuri grazie 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 grazie